La terapia Marisci del colore della gemma è un altro pacchetto molto piacevole, interessante, che così può essere abbinato ad altri pacchetti come abbiamo visto prima, ma essere anche un pacchetto esclusivo. Uno può venire per tre giorni, tre, quattro giorni, l'importante è fare almeno tre trattamenti consecutivi e in questi trattamenti si riceve l'effetto della profonda energia, equilibrio e ordinata struttura cristallina delle pietre preziose. Ogni pietra viene selezionata e diciamo viene fatta risaltare dal passaggio attraverso la pietra di una luce particolare che enfatizza la qualità di ogni pietra singola, quindi il passaggio sul palmo della mano della persona darà la possibilità all'operatore di capire se quella pietra è favorevole in quel momento per quella persona o invece va utilizzata magari in un momento successivo. Poi queste pietre vengono poste con una particolare struttura che permette di agganciarle in modo che riflettano la loro luce sui punti centrali della nostra fisiologia dal collo, dalla testa diciamo alla parte dell'attaccatura delle gambe e in questo modo a seconda di quelle pietre che saranno state scelte ci sarà un effetto profondo su questi punti speciali della nostra fisiologia che sono i punti marma e chakra dove può essere accumulata della stanchezza e dello stress molto profondo e molto antico quindi è una combinazione molto speciale di un effetto che può essere abbinato ad altri pacchetti o essere un pacchetto singolo da scegliere per un breve periodo di soggiorno nella nostra struttura.